Camer, soluzioni per un autentico benessere. La nuova Sondrio subisce un'altra sconfitta casalinga, nella sesta giornata del Girone B, disputata ieri, perdendo 1-0 contro l'Ospitaletto. La partita è stata decisa da un gol di Gobbi a fine primo tempo, ma il risultato è stato fortemente influenzato da un fallo evidente su Capitan Busto, non sanzionato dall'arbitro e reso evidente dalle immagini realizzate da bordo campo. La gara si è svolta davanti a pochi spettatori, tra questi i tifosi dei gruppi locali, che hanno criticato la scelta di far giocare le partite a metà settimana, influenzando l'affluenza allo stadio. Nonostante le condizioni non ottimali del campo, la nuova Sondrio ha iniziato con determinazione, creando alcune occasioni, ma senza riuscire a concretizzare. Capitan Busto è stato tra i più attivi, cercando il gol in diverse situazioni, ma il portiere avversario e la difesa sono riusciti a chiudere la saracinesca della propria area. Nel secondo tempo, la squadra di casa ha cercato con insistenza il pareggio, ma ha trovato la difesa dell'ospitaletto ben organizzata. Diverse occasioni, tra cui un tiro insidioso di Chillemi e un colpo di testa di Rossi, non sono riuscite a cambiare il risultato. La nuova Sondrio ha comunque mostrato un buon gioco, sfidando ad armi pari una delle squadre migliori del campionato. La sconfitta, la quarta della stagione, lascia l'amaro in bocca per l'episodio controverso che ha deciso la partita, tuttavia la squadra ha la possibilità di riscattarsi nella prossima partita in trasferta contro il Ciliverge.